I can see an angel walking, someone else is by his side, bellissimo, mi piace eh, si 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 come no, bellissimo, può scegliere lei tranquillamente quello che vuole, Loretto, belli eh, può scegliere quello che vuole signora, senta a me piace quello verde lì, quello lo stiamo dando un milione e mezzo, conosce due lingue, l'inglese e il francese, No, senta per me è un po' caro, io lo volevo portare a una festa di bambini, quello piccolo lì, giallo, carino, quanto viene? Quello giallo lì? Eh, ma quello è piccolino ma costa due milioni e cento signora, due milioni e cento? Quello conosce tre lingue, il francese, l'inglese e l'italiano, no, è un po' troppo, due milioni e cento quello, ma... Senta, e questo spennacchiato qua sopra quanto viene? E' spennacchiato signora, ma quello costa otto milioni e quattro e cinquanta, otto milioni e quattro e cinquanta, e quante lingue parla? Non lo so, anzi non l'ho mai sentito parlare, l'unica cosa che le posso dire è che quando l'abbiamo messo nella gabbia, tutti gli altri hanno detto, buongiorno professore.